Ecco il gruppo dei giovanissimi, c'è qualche assenza oggi, di solito ci sono assenti giustificati. C'è il mister Giovanni Di Giulio che sta provando i tiri, adesso ha tirato Mascio, Marcello Alessandro, adesso ha tirato Costantini, adesso c'è Ramunti Alessandro, in porta c'è Johnny, all'altro lato c'è Daniel e all'altro lato c'è Francesco Cocco, adesso si appresta a tirare Franco Di Presco, adesso si appresta a tirare Caran, Caran, ecco Franco, mister Giovanni, ecco si appresta a tirare l'arne e tiro nettamente fuori.